come? pronto? ah si? è ufficiale datemi una B e datemi una A, datemi una M e datemi una B e datemi una U con l'accento sulla U BAMBU 16, 17 ottobre vi voglio tutti all'inaugurazione del BAMBU perché BAMBU è ristorante, in un'atmosfera calda e rilassata potrete gustare i nostri menù di terra o di mare e la nostra selezione di vivi e la serata è appena iniziata, dopo cena, DJ time! con i nostri grandi DJ, la grande musica, anni 70, 80 e ci mettiamo pure 90 il nostro slogan, great food, great music è chiaro sta fatica a te e ora vi aspettiamo 16 e 17 ottobre al BAMBU qui troverete tutti gli indirizzi, tutte le info che volete ma quello che è più interessante è che dovete venire tutti al BAMBU ci manchi, sono tu, ciao! BAMBU 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 To the middle